Ehi ha ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Magnus Abbiamo racimolato fino adesso 4 punti, ci restano ancora 6 partite quindi è ancora tutto in ballo Novità della formazione, ho venduto, rivenduto praticamente Sala Perché in pratica non mi sono trovato molto bene Penso che sia più o meno dello stesso livello di Biabiani Per lo meno per l'utilizzo che ne faccio io Biabiani riesco a sfruttarlo molto di più Mentre invece Sala è vero che magari era un pochettino meno veloce ma più bravo nel dribbling Ma secondo Biabiani è più forte Comunque andiamo avanti e affrontiamo quest'altra grandissima sfida Ok avversario trovato, beh diciamo che stiamo più o meno sullo stesso livello Ok forza scendiamo in campo Ma iniziamo a portare sfortuna giornalisti bastardi Ok dai, cerchiamo di giocarci da subito Ok Ok dai Nooo Meno male, meno male Perdiamo queste palle al centro campo Mi fate venire un infarto proprio Apri, vai Gervinio, vai Gervinio, vai Gervinio Aspetta che ce la fa Ah di nuovo Ma perché fate questi cross di merda Mamma mia Questo sì che è un grande gol Bravissimo Gonzalo Perché non l'hai presa, la devi prendere Ok vai Vai, vai, vai Dalla Biabiani Dalla Biabiani Vai metti in mezzo Non così però Vai, vai Vai Tira la botta Ma no, in centrale No, ma no Così in centrale Ha ragione Troppo centrale sul portiere Ah Mi arrivano stritto là No, 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 no Lo fa entrare Bravo portiere Bravo Dobbiamo fare questo secondo gol Così sblocchiamo la partita Ok Ok, perfetto Oh, oh No Gonzalo, Gonzalo Oh Che cazzo Grande reina Ragazzi però non possiamo far fare tutto a reina E questo è uno schema E' uno schema Vai, vai Vai, chi è quello Vai Dalla Gervinio Dalla Gervinio Cazzo Dalla soprattutto Dalla soprattutto Perfetto Dai No Ma guaina Che cavolo fai Gonzalo Che hai perso No, no Che buco in mezzo Che buco in mezzo Non lo fa scendere Non lo fa scendere Ma no No Cazzo Vai, vai, vai Che fai Aspetta Dalla Ah Dai Dai No Tira Ah No Non si può fare una cosa del genere Sulla palla Dovevamo andare subito Vai Gonzalo Vai, vai, vai Ok No, ho sbagliato Ah Ma che cazzo Vai Ma porca misera Ma non è che ho ben capito Che cavolo ho fatto E vai L'hai intercettata Pugue Sta cavolo di palla Oh Che è successo Vabbè Ragazzi Primo tempo La possiamo vincere Questa partita La dobbiamo vincere Cazzo Però Dobbiamo fare Ste pisciatelle Però Vai E dai E dai E arriviamo sempre dietro Sempre indietro No No Ok Senza Senza Oh no Ma E vabbè Ma questo è fallo però Dai E dai Mettiti in mezzo Ma dai Ma perché Ma no Vai Chiudi 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 Cazzo Questi non chiedono proprio Ragazzi Stiamo giocando di merda Vediamo di uscire da questi Eh sì Vabbè Era un'ottima occasione Eh appunto Era un'ottima occasione Vai Ma dai Ma che palla di merda Ma perché Tira Ma dai E vai Vabbè dai No Dai Dai Dalla sopra Dalla sopra Dai No No Ma non si può fare un passaggio del genere Non si può fare un passaggio del genere Questa partita buttata nel cesso Perché è un altro pareggio luido Ah che peccato ragazzi È impossibile Stiamo continuando a pareggiare Comunque siamo a 5 punti Mancano ancora altre 5 partite rimaste Speriamo di riuscire a fare Un ottimo risultato Almeno Perché in pratica Se riusciamo a vincere Possiamo tranquillamente Rimandere in ottava divisione E mantenere la nostra varvezza Ok Spero che vi sia piaciuto Non vi ricordate sempre di commentare Mi chiedete sempre di mettere mi piace Noi ci vediamo Nel prossimo video E bye bye Noi ci vediamo